Edder, Mech, Pallister. Sono, non so se tre o quattro tera di fotografie, che non sono assolutamente terabyte di fotografie, quindi sono migliaia, migliaia e migliaia di fotografie, ma vogliono che le abbiamo già viste, ma le vediamo e le posizioneremo agli altri. Oggi è il 28 settembre. La frase del giorno è, se c'è soluzione perché ti preoccupi? Se non c'è soluzione perché ti preoccupi? Accadde oggi, 28 settembre. 1994 il traghetto Estonia affonda nel Mar Daltico. 852 morti. 2003 l'Italia rimane al buio a causa di un colossale blackout. Lo sapevi? Agatha Christie dettò tutti i suoi romanzi a un assistente. Soffriva di disgrafia. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.